Noi marciamo con questo senso! La società di quartiere contraria tutti si diverte! Quest'anno sono 30 anni che sono donna Ho la mia voce che ovunque vado Crea situazioni di imbarazzo Io sono stanca! Noi siamo l'ultima nazione in Europa Sui diritti civili Perché io non posso vedere riconosciuto il mio diritto ad essere famiglia. Ma perché questo? Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto? Grazie. Grazie. Grazie.